ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo informatore 7 e ben con noi sulla su una... su... sì, farò una cappola di sistema location. Ragazzi e il volume è talmente alto che per fammi sentire che è murale! Comunque ragazzi la mia gliccia Poi prendere un nuovo stile un nuovo spazio per il male press 1 semmi che hai un problema con il keypad non ci sono numeri non ci sono numeri non ci sono numeri per te per te per te angsti teen non ci sono numeri non ci sono numeri non ci sono numeri non ci sono numeri la mia gliccia ci sono numeri la mia gliccia le mie sono numeri non ci sono numeri non ci sono numeri per te non ci sono la Ok. 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 I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. Ok. Let's check out Funtime Foxy. Make sure he's ready for Showtime tomorrow. That one we have done in Foxy. Visco. Fuora al palco farà una voce terrificante. Guardate ora. No. Eh anzi guarda. Sentite. Qua... Sentite bene? Great. 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 There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Ennard. Ennard. Ragazzi. Il tutor è Ennard. Perché fa dei rumori. Eh... Vecchi strani. Questo è sicuramente Ennard. Quello che... Quello che... Quello che dice anche... Fabio Nicolini. Beh, Fabio Nicolini lo... Anche io lo seguo tanto. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Ok. Oh Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Ma... Ok. Let's try another controlled shock. Ok. Ok. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate baby. Ok. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vet locks, and oxygen. Commencing System Restart I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Willingly. Maybe curiosity. Maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place and it worked for him. I recommend that you hurry though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Ok. 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 Ok Oh oh, scanno il mango Eh no, non c'è nessuno qua Non c'è nessuno Corvate qua in uno stage Non c'è nessuno qua, no no No, no, non c'è nessuno Eeeh Ciao Aia, i miei simpani Bigie Bob Ahia I miei simpani, che male Au Oh, no, 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 no no nono 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 no, oh, ma male, prima era facile, ma diventa più difficile, oh oh, mo mi prendo mo mi prendo qua ancora oh ma prendo c'è fuoco ci ah loco sono un grande ingegnero oh oh dai 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 oh mamma mia ma c'è lui sta guardando ma non è un'altra parte grazie when your guide comes back online he is going to tell you that he was unsuccessful that you must restart the system manually he will then tell you to crawl through ballora gallery as fast as you can to reach the breaker room if you follow his instructions you will die ballora will not return to her stage anymore she will catch you no 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 sono le mie distanze oh mio dio sono giocato a questo gioco un paio di volte però non sono uscito a superare la terza notte adesso mi fermo qua prima di continuare vi invito a iscrivervi il canale mettete un bel like e seguimi pure su instagram, telegram, facebook e jameshord e proprio se vi iscrivetevi al canale attivate la campanellina delle notifiche per non perdere nessun altro video quindi ragazzi devi continuare ragazzi adesso ve lo dico in ritardo ragazzi sono un po' stupida la prossima volta ve lo dico in anticipo attraverso il canale ora dovremo andare a camminare attraverso il canale usando la venta a sua parte per arrivare la sala di rompere è ricomento che resta in giro e arrivare l'altra parte così veloce che possibile per non disturbare la ballora I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Piano, piano, ok, guarda sulla porta, se la posso fare, se la posso fare. Eh, ragazzi, meglio, meglio, meglio che tagli il video, non voglio far, non voglio annullarvi troppo. Ragazzi, ecco qua la bathroom, guarda, sono in tassi e poi, ma che badora non mi, non mi, non mi uccida? Ah, speriamo di no! Ok, ragazzi, poi sentiamo la musica, noi non dobbiamo fare rumore. Oh! Motion trigger breaker room. You may now interface with the breaker control box. Come on! Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily, until it is safe to reconnect. Calm down and go back to sleep. No one is here. Poi cambiamolo un po', va, perché mi sembra un tipacitato. Ok. Ok, ragazzi. Ti sconoscendo, forse. Stai fermo là. Là. Stai fermo qua. Ok. Ci sto riuscendo, ragazzi. Ci sto riuscendo. Forse. Speriamo. Ragazzi. Ci sono riuscito. Ci sono riuscito, ragazzi. Ok, è stato difficilissimo. Perciò che fa anche un po' di freggy, come scatenato, l'interuttore. E lui si arrabbia e vuole salire. Ma per quale motivo? Mi spiego io. Ok. Dobbiamo ascoltare il suo suono. Ci sta arrivando meno. Ora qua è tutto diverso. Questa volta dobbiamo fare piano. Piano. Ok. Ok. accoppiamo io non sento niente ok piano dobbiamo fare piano ok penso che sono quasi arrivato ti prego malora, non ammazzarmi dai ciao no, non c'è nessuno da tua stanza dai, non voglio cominciare a cap sì sì è vivo sì 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 anche questa notte è stato completato in un solo tentativo oh sono di nuovo a casa a mangiarmi un bel poccone e il volume non si sente non si sente sì 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 mi sto rilasciando per tutto per tutto il casino che è successo ok ragazzi vi dobbiamo concludere qua mi raccomando ragazzi mettete un bel like per questo video iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e attivate la campanellina delle notifiche che non credo vi perderete nessun video ragazzi ci vediamo al prossimo video eeeh ciao ragazzi